Ciao a tutti, come avrete visto il primo step che faccio è truccarmi, vestirmi e piastrarmi i capelli. Questi sono i prodotti che ho usato per realizzare questo make-up che in realtà è quello che faccio di solito, non è niente di particolare. Subito dopo sono uscita di casa e sono andata a fare colazione al bar, solo che ho dimenticato di fare la registrazione purtroppo. Subito dopo colazione con la mia famiglia e anche con mia nonna e con mio zio siamo andati tutti insieme in chiesa. Durante il tragitto passiamo sempre davanti al Colosseo e qui parte veramente l'orgoglio romano che c'è in me. Allora sono appena tornata a casa e sono in condizioni un po' pietose perché piove e quindi io sono un po' tutta in disordine. Però volevo soltanto dire che questa mattina ho già fatto il primo errore in questa specie di vlog routine perché avrei dovuto farvi vedere la colazione ma non ve l'ho fatta vedere. Comunque per sintetizzare sono andata al bar, ho preso cornetto e cappuccino ma non l'ho fatto vedere, non so come. Comunque sono appena tornata dalla messa e ora sono tornata a casa. Non vi ho neanche fatto vedere l'outfit di stamattina, vi metto una foto perché comunque adesso mi dovrò ricambiare perché dopo andrò a casa dei miei nonni. A pranzo da loro, resterò lì praticamente per quasi tutta il pomeriggio. E quindi poi ci rivedremo là. Intanto vi faccio vedere anche il vestito che metterò dopo che è molto bello. Però prima vi voglio far vedere... Vabbè vi metto la foto di come sono vestita ora perché ora ho il cappuccino. Questo è il pranzo. Ovviamente non ho registrato proprio tutto nei minimi dettagli perché volevo veramente godermi il pranzo. E soprattutto ho, diciamo, tralasciato la parte in cui mi abbuffo di torrone e ho messo soltanto la parte del pandoro. Ma figuratevi, in realtà non ho mangiato soltanto questo ma diciamo che ho dato il meglio di me. Durante il pranzo, comunque durante la giornata che ho passato a casa dei miei nonni, ho fatto anche dei boomerang, delle storie con le mie sorelle. Quindi qui vi metto alcune delle foto e dei video che abbiamo fatto insieme. Allora, sono appena tornata a casa. In realtà è abbastanza presto ancora, sono le... metto le mani davanti, vabbè, 19.23. E adesso, prima di togliermi, già di mettermi il pigiama, dato che ancora questo vestito a me mi piace molto, faccio delle foto davanti all'albero di casa mia, così le posto su Instagram. Allora, come vedrete, mi sono messa... in pigiama, struccata, tipo... Quindi direi che per questo video può essere tutto. So che non è stato proprio un vlog, ma comunque credo si sia capito quello che ho fatto oggi. E mi dispiace se non ho avuto molto tempo per registrare tutto, ma spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento ed iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!